Buongiorno ragazzi e ragazzi, buongiorno a Vitamina, allora oggi vi faccio vedere il catalogo Stenom perché non so se mi arriverà cartaceo, quindi perlomeno già lo vedete e sapete. Allora, praticamente vi metterò anche il link così ve lo potete anche guardare tranquillamente diciamo sul cellulare, come lo sto facendo io praticamente. Allora, praticamente questo, perché pensavo che ancora c'era quello vecchio, questo è quello del ciclo X, fatto ordinabile dal 28 giugno fino al 15 luglio. Come vedete in copertina, poi insomma c'è tipo un anteprima, vedete. Questi sono, questo è un contenitore praticamente, praticamente ci sono questi due contenitori della linea Omada, sono box ermetici ed innovativi con sistema di chiusura con una sola mano brevettato, comunque sono carini a me quando ci sono questi contenitori che sono tipo insalatiere, queste cose a me piacciono, quindi tipo non lo so, ci farò un pensierino. E soprattutto vi ricordo sempre che quando ci sono tipo queste offerte di quel contenitore o qualsiasi altra cosa, di prenderla subito nelle prime due settimane, perché già vanno a ruba, capite. E poi non ho trovato un tubo, come ho fatto io tipo con le borse, con le borse male che non le ho trovate più e giustamente io poi non ho più fatto l'ordine. Allora, praticamente c'è un programma che inizia adesso, quindi nel ciclo X e termina nel ciclo X, allora nel ciclo X praticamente acquistando un prodotto di questa linea, non di questa linea, cioè acquistando un prodotto questi di qua, configurati, che poi ovviamente man mano che sfogliamo il catalogo vi dirò, potete acquistare nel ciclo X il set di due contenitori pool box a 7€ e 99€, ovviamente vi mandano colori diciamo random e basta. Ah ok, quindi noi possiamo acquistare le cose nella prossima campagna, quindi tranquillamente con calma se ne parlo. Praticamente questo contenitore è molto semplice, con un clic apri, schiacci e chiudi, chiusura armentica, praticamente l'apertura con una mano, sono bellissime, un set di due contenitori, allora un box grande, diametro 20,5 cm, altezza 10, capacità 1,8 litri, quello piccolo 15,7 cm, per altezza 8,2, cioè sono piccolini praticamente, infatti capacità 0,75, quella linea pool box, grazie alle caratteristiche tecniche dei suoi prodotti è stata inserita in l'ambito, premio internazionale Red Dot Awards 2022, scusate, sei 2002, ciao, nella categoria Production Design, sono veramente belli, a me le piacciono troppo, e questi sono i contenitori, certo non sono male, però ovviamente apertura con una mano, brevetto di chiusura termica, quindi potete metterli anche nel frigo, contenitore a servire, adatto per microonde, lavastoviglie, lavabile, plastica riciclabile, è già una cosa molto carina, poi vediamo il Windows Spray, veramente, soprattutto questo è già uno step per poter ricevere i contenitori, 6,90€ il Windows Spray, io sicuramente lo metto nel carrello, perché è una cosa che mi serve, poi tra l'altro questo catalogo interattivo è molto comodo, perché potete mettere tutto nel carrello, potete inviarlo insomma alle vostre consulenti, poi abbiamo la linea Femini Shampoo, due shampoo 400ml, abbiamo due versioni, quello alla vena, quindi shampoo delicato, prodotto frequente per tutti i capelli, e l'altro la mandorla dolce, sempre delicato, insomma prodotto frequente, 6,90€, questi sono molto buoni perché sono estratti di avena in mandorla dolce specialmente, adesso facciamo sempre dei shampoo frequenti, ci vuole un shampoo delicato, quindi non molto aggressivo, non lo so se uno lo prenderò, ci vuole pensare, poi abbiamo 3 azioni in un solo prodotto, un effetto pelle nuova, peeling delipato, che contiene estratti esfolianti di origine naturale, pelle idratata, liscia e più toni, il corpo, aiaha, gli oligosidi di mela, soprattutto gli oligosidi di mela danno molta luminosità pelle, 15€ per 195 ml, qua potete avere anche il primo step per acquistare sempre il prodotto, anche qua sull'olio doccia, tè e arancia, 6,90€ della Chiaotis, poi abbiamo la crema doccia, bacche, rosa e vaniglia, altro step per poter prendere insomma la promozione dei contenitori è l'ultra eyeliner, 6,50€ e basta, poi abbiamo lo sgrassatore, quello da un litro, il limone, che sapete che è ottimo un po' per tutto, 7,50€, poi abbiamo la bathroom sponge, 6,90€, i deodoranti per l'ambiente, 8,90€, insomma un po' scontati, sono ottimi, poi ottima offerta, il pre-wash che sicuramente prendo perché ne danno 3,19€ in 90, cioè veramente il top, poi questi sono ottimi per il pre-lavaggio, appena ci sono macchie, basta che spruzzate, lasciate agire 2 minuti e poi cominciate con la lavatrice, qui togli tutte le macchie, sangue, pomodoro su tutto, e poi c'è 47% di sconto per quanto riguarda il dosing cup, e a questo serve sempre, lo metto in carrello perché mi serve, poi abbiamo due ammorbidenti, 15,90€, questi li prenderò pure perché mi servono e soprattutto mi piacciono, allora quello che adoro molto è vaniglio orientale e nota di freschezza gersomino, sono stupendi, va bene ne metto due, cosa ne faccio, il mio carrello quant'è? 43€, va bene, poi abbiamo questo che è un prodotto veramente bello, dry e dry fresh, praticamente elimina le pieghe e rinfresca la biancheria, è ottimo perché soprattutto se andate di fretta, basta che spruzzate, lisciate con le mani, niente, si levano tutte le pieghe, quindi super consigliato, 200ml, 8,50€, io ve lo consiglio, io non lo prendo perché raga, a me stirare piace, qui quando stiro, cerco di fare un'unica ambalcata, cioè stiro tutto quello che devo stirare, anche se ci sto tipo 2-3 ore, poi abbiamo due prime wash, questo è pure il buono sto, detersivo 1 litro, detersivo bucato concentrato bianchi e colorati, soprattutto efficace a freddo e poi toglie tutte le macchine, anche quelle più difficili, incrostate, infatti penso di prenderlo perché veramente 2,17,90€ sono da prendere subito al volo, perché sono dei detersivi che, sì ok, costano assai, però sono concentrati anche con un misurino, freddo e poi soprattutto il profumo che hanno, 61,00€, poi abbiamo l'Aquilan, questo lo prendo anche, da 1 litro, 2,90€, questo sapete che è un detergente per capi delicati, quindi protegge i tessuti, accione anti-infiltrante, non fa apparire pallini, poi cura e nutre le fibre, insomma è un detergente ottimissimo, poi abbiamo il dial wash, sconto diciamo per il white wash, 8,90€, sporco e stinato, trite it, 7,90€, ottimo, questo lo prendo anche, però non so se farò l'ordine adesso, vedremo, perché comunque sicuramente l'ordine sarà molto molto elevato, 7,90€ questo è ottimo, detergente insomma per le pulizie pesanti, per i giardini, insomma, veramente ottimo, poi abbiamo con il 27% di sconto il machine booster, 6,50€, questo pulisce efficacemente anche le guarnizioni della lavatrice e dà 20 utilizzi, va bene per lavastovie e lavatrici, l'Active Drain, 8,90€, il Super Anthroch Killer, 7,90€, poi abbiamo due silver, due prodotti diciamo con la crema per lucidare e pulire l'argento, chrome e silver spray, 12,50€, quindi veramente super promo, da cogliere subito al volo, poi abbiamo bel germ spray care, 9,90€, il dry spray settembre e 90€, questo è ottimo raga, solamente adesso che siete in viaggio, ma soprattutto anche a casa, questo è ottimo per i tessuti che non si possono muovare, ma anche per il telefono, per igienizzare l'orologio, per igienizzare un po' tutto quello che non possiamo igienizzare, soprattutto anche le sedie, insomma, un po' tutto, 7,90€, poi abbiamo il flash map, quindi c'è per 50 insieme alla sua testina, insomma tutto completo, 15,50€, non lo so, a me piace troppo però, costa troppo, secondo me che vedo qualcosa di più economico, a me piace il piumino appunto per pulire gli angoli, per pulire anche il funco di mio fratello, invece il polvere vado col piumino, pulisco tutto, allora la cosa bella è che questo costa 15,50€ ed è tutto completo, mentre quelli che troviamo in giro sono i panni del ricambio, tipo, non è che è tanto bello, poi abbiamo, beh, il quick polish, 8,90€, ah, 23,90€, abbiamo top swing, quindi il mocio, e il slim handle, che è appunto il bastone, 23,90€, c'è la particolarità di questo bastone che c'è il gancio integrato, quindi ok, si allunga fino a 1,40€, il bastone è bello forte, e il mocio che non è che è tanto raga, io quando fu che l'ho preso, dopo un po' l'ho buttato, è troppo magro, casomai se volete andare nel mio gruppo vi metterò qualche foto, perché penso di averla, qualche foto di quando appunto l'ho presi io tempo fa, perché tanto è semplissima, è troppo magro, anche se dice che dice che è 6 volte più assorbente, però a me non piace, allora, perché? Perché sono abituata con i moci belli grandi, capite, che assorbono, non ste cose piccole, non so, non mi piace tanto a dire la verità, abbiamo la shopper mare, più fashion di sempre, questa è molto carina, si può prendere, diciamo che adesso ci sono i nuovi regali, cioè i nuovi doni che i consulenti possono chiedere, no, i regali possono chiedere, le consulenti in base i punti che hanno fatto, io non lo so se prenderò questa sopra, è carina, però sembra il corticello, c'è niente ci fa, tipo una, una tovaglia, misure 32x24, altezza 26, infatti è cuita, allora, c'è la tasca ed è provvista di cerniere, c'è una cosa, a me piace un po', poi, poi della linea sempre omada c'è questo bellissimo contenitore da portare, insomma, dove si vuole, anche per completare, insomma, la collezione, non lo so, mi piace troppo, ermetico, può andare anche in me con, poi abbiamo il barattolo pull box, molto carina, la pattumiera, la pattumiera, non lo so, ragà, la voglio prendere, vedete perché? semplicemente perché, insomma, pelo le, pelo le verdure, le cose, ho già tutto a portata di mano e butto là, anche se io, io ormai sono attrezzata, prendo i volantini e butto tutto là, se devo sbucciare che so, le patate, le carole, metto tutto là e butto, capito? però, una pattumiera è sempre utile, bella, mi piace troppo, poi abbiamo il set di quattro petti bistecca, bella, bella veramente, il set di tre cortelli, questa non mi interessa tanto, mi interessa di più questa, la borsetta che non può mancare nel tuo guarda roba estiva perché è bellissima, la potete utilizzare sia come pochette oppure come borsetta, insomma, da sera, cioè appunto pochette con la tracollina a mano, bella, mi piace troppo, abbiamo le spugnette, la penna, quella con i semi, cosa troppo carina da completare, diciamo, raga, per chi ha preso le borse, è la thermal bag, quella per la bottiglia, da un litro e mezzo, tra l'altro, buono, vabbè, questo è se tu, tipo, inviti tre persone, ti spendono 120 euro, riceverai il regalo, appunto, alla thermal bag, ma anche se ordino io, per esempio, 120 euro, entro l'11 luglio, posso avere appunto questa, penso, sì, anche se una ordina, appunto, 120 euro di roba, io quanto sono arrivato? 78, perciò, calma, poi, praticamente, chi si vuole scrivere, tutti i vantaggi, appunto, per diventare cliente smile, ve li elenco un po' brevemente, vabbè, i vantaggi sono che hai 18% di sconto su tutto il catalogo, la prima spedizione gratis, più fai l'ordine e più ricevi, tipo, da spendere nel prossimo ordine il coupon, zero anticipi, perché, cioè, puoi decidere, appunto, di pagare subito con carta di credito, puoi decidere anche di pagare dopo, tramite il bollettino, e poi ci sono, appunto, tanti vantaggi aggiuntivi, insomma, molto cose carine, per esempio, se fai almeno 59 euro di ordine, paghi 49 euro, appunto, col 100% di sconto, e hai un coupon di 10 euro da spendere nel prossimo ordine, se fai almeno 79 euro, paghi 65 e hai un coupon da 15 euro, se fai 99 euro, paghi 81 euro e avrai un coupon di 25 euro, appunto, nel prossimo catalogo, se fai almeno 30 euro, paghi 98 euro e hai un coupon da 40 euro, oppure se fai almeno 139 euro, paghi 114 euro e hai un coupon di 60 euro, oppure puoi scegliere, appunto, sul tuo primo ordine, il set, wear chrome set, insomma, è facilissimo, non ci vuole niente, poi, se non me la conoscono più, allora, non so se l'ho fatta vedere, però vi farò vedere la Fluid, al Purpose Fluid, perché non so se stavo registrando e ho bloccato, non ricordo, poi abbiamo in gel doccia, questo è il cocco, insieme alla Fluid, 18,90 euro, poi abbiamo due deodoranti a sfera, 48 ore di protezione dal sudore, 12,90 euro, e tra l'altro abbiamo anche quello nuovo, il Deo Summer, l'essenza di fiori bianchi e mandarin, edizione limitata, non mi ricordo veramente, cosa è un secondo, che mi sono dimenticata, se avevo registrato o no, l'avevo guardato ed era tipo in pausa, bene, poi abbiamo prezzo più basso dell'anno, ed è l'Harpopose Light, è una crema di trattante per pelli normali e secche, la vorrò prendere questa, 75 ml, 4,50 euro, poi abbiamo anche questo prodotto che lo voglio prendere subito, è il Sun Protection, fattore protezione 50, ha una formula arricchita con principi attivi idratanti, insomma, dicono che è buona, 50 ml, la voglio provare, poi abbiamo il Sun Protection, fattore 30,50, 13,9 ansi, non sbaglio, spray, non c'è scritto, vabbè, questo è ottimo anche per chi è allergico, perché senza profumazione, poi abbiamo il Nutrition Oil, che è questo, è ottimissimo, quant'è? 9,90, il balsamo nutriente lipo restitutivo, 2, hand gel 6,90 euro, poi anche questo voglio provare, show well gel, 2 in 1 sport, 200 ml gel, doccia purificante, 2 in 1 corpo e capelli, toglie le impurità che si producono appunto durante lo sforzo fisico, lasciando sensazione di freschezza, poi specialmente in questo periodo è ottimo, perché è anche un principianto d'ore, 5,50, 50% di sconto, niente, da prendere a volo. Poi abbiamo, prezzo più basso dell'anno per quanto riguarda le creme, crema lifting, il seriattivatore 39 euro, cura lifting viso per 4 fiale, 39 euro, non sono fiale, non sono creme, 33,90, il set, set fluido lavigante più il contorno occhi, poi abbiamo già il cremeri 223,50, questa mi sembra molto carina, poi ci sono questi, raga, che io voglio prendere, sono praticamente dei mini set da portarsi in vacanza, costano solamente 10,90 euro, e sono delle varie cose, insomma, che possono servire. Potete avere, che ne so, l'antirrughe, il set antirrughe, io ho scelto quello glow 2, che cosa contiene, allora il set antirrughe contiene la mini crema antirrughe da 15 ml, la mini crema rigenerante notte 15 ml, la mini acqua micellare estruccante ai probiotici, che questa voglio provare da 50 ml, e il mini latte corpo, che voglio anche provare. Io ho preso il set glow, il set 2 glow, appunto c'è la crema, effetto glow luminosità, levigatezza di energia, 15 ml, la crema notte rigenerante, 15 ml, la mini acqua micellare estruccante, che ho con l'altra i probiotici, 50 ml, e il mini latte corpo. Poi c'è il set lifting, dove c'è la crema lifting, la crema con la notte, e gli altri due cose, più la pochette, se non sbaglio giusto? Sì, infatti, per te, è inclusa in ogni set la comoda pochette, infatti voglio prenderlo subito, che mi piace. Poi abbiamo il latte corpo dopo sole rinitivo, prolungatore di abbronzatura, 18,90€. Tra l'altro c'è l'offerta 1,18€, 2,33€, dei solari, del Pier Gau. Ci sono bei prodotti di questa linea, veramente, c'è anche il fluido viso appunto dopo sole, l'entivo, la crema antirrughe, insomma, c'è parecchie cose. Stiamo finendo. Parliamo della Chiotis, dove abbiamo il latte corpo, 12,90€, gel esfoliante, 6,90€. Questo lo vorrò prendere, gel esfoliante, perché lo utilizzo sempre. Questa è la profumazione di mandarine, e un'essenza di Yuzu. Bello, bello veramente. Io adoro troppo i gel dolce esfoliante, poi questi di Lichiotis sono veramente il top, veramente. In una passata già ti lavi e ti togli tutta l'impulità di rosso. Ah, loro vi propongono latte corpo più gel dolce esfoliante, 17,90€. Poi abbiamo l'esfoliante corpo sabbiato, 10,50€. Questo sono curioso di provarlo, però è un po' troppo. Queste sono le bacchie di rossa paniglia. Poi c'è questo, limone e menta, questo mio fratello lo adora perché è veramente buono. Poi, per una pelle radiosa e luminosa abbiamo il trattamento luminosità l'imigliante da giorno e il trattamento attivatore l'imigliante da notte, 21,50€. Poi abbiamo i contornotti istantanei l'imigliante, 13,90€. La luminosità che io voglio provare, l'incarnata è luminosa, traccia di trucco sono perfettamente illuminate, la pelle è morbida e appare più liscia. Stratti di arancia e cedro, 4,50€. Insomma, non è male per 100ml. Lo proveremo. Poi abbiamo, beh, trattamento sguardo globale, 14,90€. Le creme, 2,43€. 3,50€. Le maschere, 9,90€. Olio di esergenza anti-smog, 7,50€. Struccante bifasiche, waterproof, occhi e labbra, 5,50€. Che vorrei prendere e provare. Poi, diode droganti, 48 ore per uomo, 15,50€. Profumi. Ancora profumi donne, 19,90€. Della florma l'abbiamo, il clean, effect colon, 6,50€. che è praticamente il gel per le mani da 200ml è 6,50€. Mentre quelli piccoli da 50ml è 3,90€. Bellissimi. Due formati, appunto, diversi. Poi abbiamo l'ombretto e stick, il mascara 13,90€. Hero Lume Curl mascara che è tipo bellissimo questo. 13,90€. Smalti a 3,90€. Sono quelli nuovi Maxi Brush quindi hanno il pennellino un po' più grande, diciamo. I trattamenti per le unghie, il primer illuminante 7,90€. Pennello 12,90€ con le sottelefitte insomma per applicare polveri minerali cioè proteinale oppure quindi fondotinta HD 12,50€ quello matte 13,50€. La palette camofrasio bellissima dei correttori che ho anche io ed è stupenda, stupendissima. mi ci trovo bellissima si è benissimo scusate col bianco insomma che ho di un po' illuminare che ne so gli occhi perché lo utilizzo molto per gli occhi mi piace. Poi abbiamo quello arancione per nascondere le aree più problematiche il rosa per coprire le occhie e il verde per neutralizzare il rosso e il viola per i toni tipo che vanno sul giallastro 10,50€ poi abbiamo questo che è correttore liquido coprenza perfetta 7,90€ il Kiss Me More che è appunto un rossetto effetto da tutti 10,50€ poi abbiamo il sheer up 6,90€ che è un lipstick intenso e brillante poi abbiamo il color master lipstick che è il rossetto colore pieno 8,90€ un finish repaco texture cremosa lunga durata e 4 colori no i colori sono intensi scusate è troppo bello il pezzo dice troppo veramente veramente bello e l'ultima offerta il deep gel raga da prendere al volo anche i due pezzi per dire a 6,25€ scontato proprio del 50€ prendetelo subito perché questo è ottimo ha delle microsfere di jojoba che tolgono tutte le le incrostazioni che tolgono lo sporco carteria di sanità riprevenzione appunto per la ricomparsa ed è ottimo il nostro consiglio soprattutto di provare anche una monetina dei centesimi vi faccio vedere come vi toglie le incrostazioni da lì ritornano nuove quindi tranquilli perché succede niente io vi saluto spero che il catalogo vi sia piaciuto e niente vi metto anche il link per guardare il catalogo con calma come abbiamo fatto insieme e ciao grazie a tutti